Un caffè da sorseggiare in una chiacchierata fra Piazzetta Mosca e Casetta Vaccai all'uscita dell'ultima riunione di giunta del 2022. Così Matteo Ricci questa mattina ha fatto il punto su 12 mesi particolarmente intensi che il sindaco di Pesaro e la città stessa si lasciano alle spalle guardando oltre a un 2023 non meno fervente in vista dei preparativi a Pesaro, capitale della cultura 2024. Dalle opere pubbliche ai progetti, dalle speranze alle preoccupazioni Ricci accompagnato da buona parte degli assessori ha affrontato trasversalmente tanti argomenti a cominciare da quelli emersi dall'ultima riunione di giunta con tanti fondi PNRR da mettere a terra e altri bandi da intercettare. Progetti del PNRR, intanto l'asilo di Via Rigoni nuovo che faremo, 3 milioni e mezzo, altri interventi culturali su Palazzo Almerici e quindi continuiamo in questa fase di progettazione per mettere a terra le tante risorse già prese e al tempo stesso per continuare a prenderne. Proprio ieri è arrivata la notizia che abbiamo dato insieme all'assessore Franco Ellucci del Casa delle Tecnologie, altri 11 milioni che arrivano a Pesaro e quindi il 2023 avrà un duplice effetto, un duplice obiettivo. Da una parte quello di mettere a terra le risorse prese il più velocemente possibile e l'altro quello invece di continuare a prenderne perché ci sono ancora tante opportunità che possiamo cogliere per la nostra città, per la nostra terra. Ed ora un 2023 diviso fra ambizioni, ansie e tensioni in vista della tanta carne al fuoco messa dal Comune, fra opere da completare e una capitale della cultura da organizzare. Ma un po' di ansia e un po' di tensione. Ansia rispetto alle opere che dobbiamo mettere a terra perché fare opere pubbliche in Italia è complicatissimo, ci sono una serie di incognite pazzesche. Sono entrato ovviamente nell'ottica dell'eredità perché del miliardo e otto che abbiamo portato a Pesaro, stiamo parlando di 1800 milioni di investimenti per la nostra città, una buona parte non li vedrò da sindaco, li vedranno coloro che verranno dopo di me e quindi quella sarà l'eredità che lascerò alla città e alle nuove generazioni. Però c'è una parte invece che vorrei realizzarle, vorrei realizzarle prima della fine del mandato e in cima le ansie c'è il vecchio palazzetto dello sport, proprio in questi giorni c'è la scelta della ditta che dovrà finire i lavori, quindi insomma incrociamo le dita e quella diciamo sta in cima alle ansie. Poi tanta tensione invece per continuare a prendere risorse al tempo stesso per prepararci alla capitale italiana della cultura del 24. Il 23 sarà un anno di presentazione sia in Italia che all'estero e un anno anche di grandi eventi che in qualche modo cominceranno a dimostrare cosa succederà dal 24. Quindi insomma un anno sicuramente molto impegnativo da tutti i punti di vista però cerchiamo di far prevalere l'ottimismo e di far decantare un po' di ansia perché con l'ansia non si lavora bene. Minore è l'ottimismo di Ricci di fronte al tema sanità e alla gestione di diverse politiche regionali. Sulla sanità l'unica cosa positiva è l'accordo che abbiamo fatto sul nuovo ospedale che è un accordo di mediazione ma che è comunque un accordo importante perché parliamo di oltre 200 milioni di investimenti che si faranno e per il resto la sanità non funziona e non funziona e funziona peggio di prima. Questo è il dato di fatto. Basta andare all'ospedale, basta andare al pronto soccorso, basta parlare con i medici, con i base, basta parlare con chiunque affronta la sanità. Siccome sono passati due anni e mezzo dalla nuova giunta regionale adesso bisogna che si prendano le loro responsabilità. È finita la fase del dare sempre per la colpa a chi c'era prima e soprattutto negli ultimi anni e mezzo la sanità invece di migliorare è peggiorata. Quindi se c'erano delle critiche da fare prima adesso purtroppo la situazione è ulteriormente peggiorata e questo è un dato di fatto. Quindi grande insoddisfazione sull'andamento della sanità. È un Ricci che saluta il 2023 mettendo due buoni propositi davanti a tutti per quel che riguarda la vita dei pesaresi. Sicuramente lavoro e un minor costo energetico che consenta alle famiglie e alle imprese di affrontare il 2023 con un po' più di serenità.